Allora c'è sta un paesino della piccola campagna rurale, capito, e dentro a sto paese c'è sta il più frocio del paese. Allora tutti, capito, lo pieno per culo, lo pieno per culo. Questo dopo un po' riesce a sposarsi con una per camuffar sta sua situazione e questa addirittura rimane incinta. Allora tutti quelli del paese morbono e dicono, vedi questa, allora questo non era frocio, questo si è sposato e lei è pure una bella ragazza. Lei rimane incinta e partorisce il ragazzino. Allora tutti gli amici del paese vanno all'ospedale a vedere sto ragazzino, arrivano al nido che stanno tutti i ragazzini dentro le culle, tutti che piangono, strillano e c'è sta il figlio di questo che è pure un bel pupo, sta lì zitto zitto a buono buono. Allora questi si guardano, ma come te ne rendi conto? Allora questo mi sa che non era frocio, ma tutti questi ragazzini fanno una cacera, questo è l'unico che sta buono. In quel momento passa l'infermiera, gli fanno, ah, scusi, ma è quello il bambino d'amico nostro? Fa sì, ah, un scese crede, tutti piangono, è quello più tranquillo. L'infermiera sencilla che fa così, sì sì, provate a lavagliarci l'uccio dal culo.